Grazie a tutti. Per fortuna è andata bene. Nel primo tempo c'è stata la rimonta del Verona, sono saltate forse un po' le distanze tra i vari reparti, tra voi ragazzi in campo, questo ha fatto la differenza alla fine? Sì, perché comunque il Verona è una squadra forte fisicamente e non solo, ci è andata male purtroppo. Adesso bisognerà di nuovo azzerare la partita e prepararsi a quella contro il Tavagnaco che è un'altra sfida difficile. Sarà difficile, però se comunque ci alleniamo bene durante la settimana possiamo fare un bel risultato. Grazie.